Il 2023 si è concluso da due giorni ed è logico chiederci sicuramente cosa ci possiamo aspettare da questo 2024, vale per noi così come per i personaggi più noti. Cosa le attende per esempio in questo anno appena iniziato? Lo chiediamo subito ai nostri ospiti, è rimasta con noi la giornalista Mariolina Sattanino e ci ha raggiunto Dario Maltese. Buongiorno. Allora Mariolina partiamo dal presidente americano Joe Biden. Il 5 di novembre del 2024 si terranno le elezioni presidenziali negli Stati Uniti d'America e Biden ha annunciato che si ricandiderà. Chi sono gli sfidanti e che probabilità ha di essere rieletto Biden? Biden è in grande difficoltà, soprattutto in questi ultimi giorni stanno uscendo sondaggi che lo mettono un pochino con le spalle al muro. Sta perdendo l'elettorato spanico, sta perdendo l'elettorato afroamericano, sta perdendo i giovani. sta molto moltando la candidatura di Trump, nonostante i suoi quattro procedimenti e 91 capi di imputazione, nonostante che due Stati l'abbiano dichiarato ineleggibile, su questo si dovrà pronunciare la Corte Suprema. nonostante tutto questo, Trump sembra non avere rivali. In realtà una rivale all'interno del partito repubblicano c'è, si chiama Nikki Haley, una donna di origine indiana che proprio Trump aveva indicato come ambasciatrice alle Nazioni Unite, che sta riuscendo ad avere molti contributi, molti soldi da personaggi importanti, sta raccogliendo molti soldi per la sua campagna elettorale, quindi gli potrebbe dare molto fastidio. Detto questo, da qui al 5 novembre c'è molta strada da fare, quindi vedremo come andranno le cose. Allora bene, invece che anno sarà per il nostro capo dello Stato Sergio Mattarella? Allora sentiamo un passaggio del discorso del 31 dicembre, vediamo. Parlare di pace oggi non è astratto buonismo, al contrario è il più urgente e concreto esercizio di realismo. Se si vuol cercare una via d'uscita a una crisi che può essere devastante per il futuro dell'umanità. Sappiamo che per porre fine alle guerre in corso non basta invocare la pace. Occorre che venga perseguita dalla volontà dei governi, anzitutto di quelli che hanno scatenato i conflitti. Ecco Mariolina, cosa ti colpisce di più di queste parole del nostro capo dello Stato? Innanzitutto mi colpisce il tono, che è molto chiaro, molto diretto, potremmo dire radicale. E mi colpisce il fatto che quando si crede molto in quello che si dice il messaggio arriva subito. La seconda cosa che mi ha molto colpito è questo richiamo ai doveri, prima ancora che ai diritti. Certamente diritto al lavoro, diritto a un stipendio giusto, ma anche dovere di andare a votare, dovere di dare il meglio di se stessi per la nostra società, dovere di pagare le tasse e così via. Dario Maltese, giornalista. Allora la guerra tra Russia e l'Ucraina non si è fermata neanche a Capodanno. Mi sembra di capire che anche le parole nei discorsi di fine anno sono stati veramente molto accesi e non si è parlata ancora di pace. Allora cerchiamo di capire come sarà questo 2024 proprio nel fronte guerra. È molto complessa, la situazione in Ucraina è molto complessa, è un conflitto che va avanti ormai da 22 mesi e finora si è in gran parte sostenuta anche su aiuti consistenti da parte dell'Occidente. Tra l'altro ci sono anche degli altri fronti aperti in questo momento, c'è una guerra in Medio Oriente fra Israele e Hamas, c'è la questione del Mar Rosso che comunque è sempre legata al Medio Oriente, c'è una velata minaccia della Cina su Taiwan. Tutti questi fronti, non dico che mettono l'Ucraina in secondo piano perché in politica estera è sbagliato parlare in questi termini, ma quello in Ucraina rischia di diventare un conflitto a bassa intensità, a bassa tensione. Io credo che continuare a inviare armi, questa è la grande domanda, credo che l'Occidente debba porsi la domanda invece di una pace, più che di una pace di una trattativa, di un negoziato, che non può essere quello che chiede Putin, il congelamento dello status quo, non può essere quello che chiede Zelensky, il rovesciamento di una vittoria totale. Probabilmente forse ci vuole una terza forza, più forte delle due forze in campo, che è per arrivare a questo compromesso. Sicuramente ha ragione Papa Francesco quando dice continuare a inviare armi fa felici chi le armi le produce. E se fino a questo momento noi occidentali ci siamo potuti permettere in qualche modo di non guardare a guerre a noi lontane, non dimentichiamoci invece che l'Ucraina è vicina, l'Ucraina di fatto è in Europa e ci sono in ballo equilibri molto importanti. Quindi più che la strategia del riarmo, io credo che la grande scommessa del 2024 sia la strategia del negoziato. Certo. E veniamo invece alla Francia. Emmanuel Macron e le Olimpiadi del 2024. Allora come si stanno preparando sia il Presidente e soprattutto Parigi a questo grande evento mondiale, anche per la paura del terrorismo? Certo. E quello sarà un grandissimo evento. La cerimonia di inaugurazione dei giochi olimpici a Parigi è prevista il 26 di luglio e si prevedono tantissime persone. Al momento il piano A è quello di una maestosa cerimonia di inaugurazione sulle rive della Senna. Ed è la prima volta che accade una cosa del genere perché di solito i giochi olimpici vengono inaugurati negli stadi. L'abbiamo visto anche nelle precedenti. C'è un piano di sicurezza molto importante, sono previsti tanti capi di Stato, tantissime delegazioni. Siccome c'è un rischio concreto, terrorismo, rischio concreto, attentati, si stanno valutando anche dei piani B. E' anche un piano C, che potrebbero portare a una riduzione del numero delle persone ammesse a questo grande evento. Diciamo che questa è veramente una grandissima scommessa per la sicurezza in Francia. Ecco Dario, è appena uscito anche il tuo ultimo libro, Les Italiennes, storie di incontri con talenti italiani che hanno conquistato la Francia. Quindi tu racconti di uomini e di donne che hanno avuto successo in Francia usando la loro origine italiana come punto di forza. E' vero, sì. Eccolo qua, lo stiamo vedendo. Sono teli italiani e italiane che hanno scelto di vivere in Francia, che è un paese che ha dato loro delle grandissime opportunità, dove hanno raggiunto delle posizioni importantissime. Le accomuna tutti il talento e poi il fortissimo amore verso l'Italia, il paese dove sono nati e dove non escludono di tornare. E oltre a grandi nomi conosciuti come Carla Bruni, Monica Bellucci, non era bagnato. Ecco, e tra queste donne c'è anche Claudia Ferrazzi, che è stata consigliera di Macron per la cultura e vice direttrice dell'Uvr. Chi è questa italiana brevemente? E' una donna bergamasca che Macron ha chiamato all'Eliseo come consigliera culturale. E lei mi ha raccontato un episodio molto bello. Quando Macron mi ha chiamato per un caffè spiegandomi il suo progetto parlando di elezioni, ho impiegato circa dieci minuti per realizzare che si riferisse alle elezioni presidenziali e mai avrei immaginato che dopo un anno mi sarei trovata all'Eliseo in un ruolo così importante. Prima ancora, numero due del Louvre, il museo più visitato al mondo ed è un'italiana. Sono tutti italiani di cui dobbiamo essere molto orgogliosi. Ecco, parlando di donne, anche il Corriere della Sera ha dedicato due pagine intere a donne italiane e non solo che hanno lasciato il segno nel 2023. Vediamo, lo stiamo vedendo in questo momento. Tra di loro c'è Daniela Di Maggio, la mamma di Giovan Battista Cutolo, Gio Gio, come lo chiamavano gli amici, 24 anni, suonava il corno nell'orchestra Scarlatti Young a Napoli. Allora, ci colleghiamo proprio con lei che dovrebbe essere collegata con noi. Vediamo se ci sente. Eccola lì. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, chi era suo figlio e che cosa è successo? Allora, credo che chi fosse mio figlio lo sa ormai tutta Italia. Mio figlio era un ragazzo meraviglioso di 24 anni che suonava il corno francese, suonava perfettamente anche il pianoforte per procurarsi i soldini quando non suonavano in orchestra andava a lavorare in un pub per non gravare sulla famiglia. Era un grande punto di riferimento per i suoi amici che se lo stanno piangendo tutti e soprattutto mio figlio aveva, non solo era un generatore di bellezza, ma era un ragazzo che professava qualcosa che di questi tempi è molto raro, la gentilezza. Lui odiava ogni forma di prevaricazione. Questo era Giovan Battista Cutolo, Gio Gio. E purtroppo è stato barbaramente un giusto. A ottobre c'è stata una manifestazione a Roma in memoria proprio di suo figlio che ha avuto una medaglia al valore civile. Daniela, tu hai trasformato veramente il tuo dolore in una battaglia. Cosa hai fatto in questi mesi? Cosa ho fatto? Innanzitutto quella manifestazione a Roma è stata importante perché quando mio figlio è stato ucciso barbaramente da questo minore solo perché ha cercato di aiutare un ragazzo in difficoltà e quindi lui si è messo di spalle per aiutarlo, per proteggerlo e lui gli ha sparato due colpi dietro alla schiena e poi un colpo in petto e l'ha giustiziato e dopo è andato a giocare a carte proprio in virtù del fatto che questo individuo non ha proprio la coscienza e la sacralità della vita, non la conosce. E cosa ho fatto in quella manifestazione? Ho fatto capire a tutta Italia che noi siamo vittime di una legge sui minori beffa, datata 35 anni e il killer di mio figlio era a piede libero nonostante a 15 anni avesse fatto già un tentato omicidio era un rapino Rolex come si dice a Napoli faceva truffe alle vecchiette non andava a scuola dall'età di 11 anni pertanto io mi sono battuta affinché si creasse nel decreto caivano il decreto GioGio e portando tutta una serie di modifiche a questa legge che veramente è assurda Daniela Daniela noi ti aspettiamo qui in studio con noi perché vogliamo insomma sentire ancora le tue parole come sta andando insomma ti aspettiamo qui a Saxarura Roma noi ti ringraziamo ringrazio i miei ospiti Mariolina Sattanino Dario Maltese grazie a te e adesso invece